L'influenza stagionale che inizia a diffondersi in chiusura di questo anno targato 2019, con la quale dovremmo fare i conti anche per i primi mesi invernali del 2020, è ancora ai livelli di base. L'influenza intestinale è arrivata e sta colpendo sempre più italiani. In genere il picco si manifesta a cavallo tra dicembre e gennaio, ma già a novembre il numero dei casi è in crescita. Ma intanto per prevenire e tenere sotto controllo l'influenza prosegue in particolare negli ambulatori, dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, ma anche in alcuni centri sociosanitari deputati alla somministrazione, la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2019-2020, organizzata in maniera capillare su tutto il territorio dall'asla di Salerno. La vaccinazione annuale è il modo più efficace per proteggersi dall'influenza e da gravi complicazioni, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La vaccinazione è particolarmente importante per le donne in gravidanza, in qualsiasi fase di gravidanza, è anche fondamentale per i bambini da sei mesi a cinque anni, per le persone anziane, per le persone che soffrono di patologie croniche e per gli operatori sanitari. Per vaccinarsi c'è tempo altri 20 giorni. I sintomi caratteristici dell'influenza 2019-2020 saranno presumibilmente gli stessi delle passate stagioni. In genere è caratterizzata dalla contemporanea presenza di tre sintomi chiave, febbre alta che compare improvvisamente, almeno un sintomo respiratorio, tosse, mal di gola e naso chiuso, almeno un sintomo sistemico, senso di ossa rotte, dolori muscolari e mal di testa. Noi questa campagna abbiamo iniziato nel mese di novembre e proseguirà per i prossimi mesi. Il nostro intento in collaborazione con l'azienda è quello di vaccinare tutti i pazienti a rischio, soprattutto gli ultra 65 anni, che sono pazienti con polipatologie e quindi è preferibile che vengano vaccinati. Insieme a questa classe di soggetti vacciniamo anche persone affette da patologie particolari come diabete, ipertensione, paratologie cardiovascolari, patologie tumorali. Ma questo tipo di vaccinazione per l'influenza quest'anno, come anche negli anni precedenti, abbiamo associato la vaccinazione antepenemococcica col Prevener 13, che permette di coprire una serie di ceppi che sono responsabili anche della pulmonite. C'è da attendersi quest'anno un'influenza un po' più aggressiva rispetto allo scorso anno? Quest'anno le previsioni sono per un'influenza più aggressiva, quindi il consiglio che diamo ai nostri assistiti è quello di vaccinarsi, perché vaccinandosi si previene questa forma, questa forma influenzale che può essere deleteria soprattutto nei soggetti anziani, nei pazienti fragili. Il freddo ancora non è arrivato del tutto, c'è da attendersi questa influenza per l'inizio dell'anno nuovo? Il freddo sicuramente apporterà una maggior incidenza di questi casi di influenza, così come avviene per ogni anno. Ripeto, quello che noi diciamo ai nostri assistiti è di vaccinarsi, ma non solo per la vaccinazione, parliamo nel studio medico, ma anche di screening. Noi siamo vicini all'azienda nello screening del colonretto, nello screening della cervice uterina e in quella della mammella, perché prevenire è meglio che curare e nessuno come il medico di medicina generale che conosce i propri assistiti a 360 gradi, perché quando un paziente si rivolge ad uno specialista, dallo specialista vede solo il flash di un paziente, mentre noi sappiamo tutto il film, abbiamo una visione olistica del paziente e quindi abbiamo un rapporto tale che ci permette di convincere meglio, con un rapporto empatico, il paziente a sottoporsi a un determinato screening e quindi prevenire quelli che possono essere le patologie tumorali oggi più a rischio, quella del colon, quella della cervice uterina, quella della mammella.